I carabinieri di Bitonto hanno arrestato tre bitontini già noti alle forze dell'ordine ritenuti responsabili di estorsione in concorso e violenza commessi ai danni del gestore di un distributore di carburante. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia sporta dallo stesso imprenditore anche lui di Bitonto nell'agosto dello scorso anno. L'uomo era stanco di ricevere continue richieste vessatorie da parte di un 25enne pregiudicato del posto che minacciandolo di morte e di dare fuoco al locale era riuscito a farsi consegnare cifre dei 50 e 300 euro. Verso la fine del mese di agosto la somma che la vittima aveva corrisposto al malfattore si aggirava sui 4.000 euro. Il modus operandi era sempre lo stesso. L'uomo giungeva a bordo di un ciclomotore o di un'autovettura accompagnato da un complice e una volta sceso prendeva contatti con i dipendenti del distributore chiedendo del proprietario. Il titolare e gli operai, spaventati dalle minacce dell'uomo, erano costretti a cedere alle richieste estorsive e a consegnare al malvivente il denaro. In uno degli ultimi episodi, al diniego opposto dalla vittima a consegnarli del denaro, il malvivente si era scagliato contro il gestore, sferrandogli un pugno sul viso e facendogli cadere gli occhiali. Da qui la decisione dell'imprenditore di raccontare tutto ai carabinieri. Il giorno dopo, quindi, giunto come al solito al distributore di benzina per riscuotere il denaro, il malvivente ha trovato i militari che lo hanno arrestato. Nel frattempo, però, le indagini, volta a fare luce su tutte le condotte criminose dell'arrestato, sono proseguite e hanno fatto chiarezza anche sulla posizione del complice che aspettava il 25enne in auto. Si tratta di un 39enne bitontino, anche lì volto conosciuto ai militari perché legato ad un noto gruppo criminale della città. Dall'attività investigativa è emerso anche il coinvolgimento del fratello dell'estorsore, un pregiudicato di 30 anni che nel mese di settembre, almeno in un'occasione, si era recato presso il distributore di benzina e, con una tanica in mano, aveva minacciato il titolare chiedendogli di ritrattare le dichiarazioni rese ai carabinieri al fine di garantire l'innocenza del fratello.